Puntata a dir poco scoppiettante, quella andata in onda ieri 30 ottobre 2020 al grande fratello VIP è stata una quattordicesima puntata davvero stupefacente per tutti i colpi di scena che si sono verificati non posso annunciarveli tutti altrimenti il video mi dovrebbe una eternità vi fornisco i dati salienti, i fatti salienti chi vanno in nomination, punto interrogativo, il buono Francesco Opini, figlio di Alba Parietti la bellissima Maria Teresa Ruta e infine lo stupendo Massimiliano Morra queste tre persone, quindi due maschi, due maschietti e una femmina, una femminuccia vanno in nomination, sono nominati quindi uno dei tre uscirà nella prossima puntata del grande fratello VIP e a uscire, a essere eliminata, è stata nella puntata di ieri 30 ottobre 2020 del grande fratello VIP è stata la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amelia Goria ossia la bellissima Gwenda Loria una ragazza sensuale, piacevole, affascinante e soprattutto molto colta, quindi acculturata va bene? ecco questo è il riassunto molto sintetico, ma auspico efficace nella puntata di ieri 30 ottobre 2020 che c'è stata al grande fratello VIP, al GF VIP va bene? vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi chissà chi uscirà tra Maria Teresa Ruta o Pini Francesco e ma ora mi seguiamo nella prossima puntata ciao a tutti da Leandro, Nardo Italiano